Ciao a tutti ragazzi, qui è Lord Freud e quest'oggi siamo qui con i Far From Gamers Ciao a tutti ragazzi, io sono Savio E io sono Andrea E appunto noi siamo i Far From Gamers In questo bellissimo gioco che ci è stato consigliato da loro Da Andrea Stiamo già facendo qualche partitina per rompere il ghiaccio Il gioco si chiama Hogat, giusto? Sì, sarebbe guardie e ladri Sarebbe guardie e ladri Quindi lascio la parola ad Andrea Così vi spiego come funziona il gioco In pratica in questo gioco si divide in due fazioni Le guardie e i ladri In pratica i ladri non devono fare altro che rubare l'oggetto Che c'è scritto in alto a destra e portarlo all'obiettivo E invece le guardie devono impedire ciò Se finisce il tempo In pratica le... Sto dio I ladri hanno perso Si chiamavano ladri se non rubavano comunque Vabbè detto questo iniziamo a rompere qualche cazzata Aspetta, quale è meglio? Ha detto il rifle Si, tu sei il rifle e io il coltello Si ma tu sei scarso, fammelo solo a me il coltello Buttiti Vabbè, tu sei scarso Vai, dai Ragazzi voi che vedete il video ricordatevi queste parole Lui è scarso Ah, devo andare? Si No, io ero andato No, Ivan Deve fare... Si, infatti Ok Vado Ok Oddio Due dei... Allora, vi spieghiamo velocemente anche i tasti Così se volete giocare Poi vi lasceremo anche i link Aspetta, scettami Andrea, aspettami Non posso passare dalla finestra Mi sembra ovvio, Ivan Ma noi non possiamo rubare? No, vero? No Siete le guardie Perché dovreste rubare? Non siamo in Italia I politi ci rubano, non rompere Eh, quindi i soliti tasti di movimento No Con il tasto sinistro del mouse si spara Perché col basso, Ivan Che cazzo hai rubato? Non lo so neanche io Non lo so nemmeno io Ah, non hai rubato qualcosa Le matita lì Che cazzo Non è andato Non lo scappa Le matiti Cazzo Aspetta un attimo No, mica c'è ancora il doppio coso No, no, non c'è Ah, no? No, no, no Non te lo permetterò Io penso che tu Ma perché mi fa spawnare sempre in culo Ai cancuri? Non lo so Eudo, che cazzo stai sparando? Non lo so, il muro Mi era sospetto In realtà ero io Oh cazzuola Oh cazzuola Container Wow Quindi come cercavo di dire prima cosa c'è lì Che cazzo dici? Ti vedo! Oh cazzo mi ha visto! Te la metto in culo! Oddio, oddio Ogni riferimento a persona cosa è puramente casuale E poi gliel'ho messo io in culo, ti è piaciuto? Abbiamo vinto! Io ancora dovevo finire di spiegare come funzionava il gioco ma vabbè È già finito il video È già finito il video Vabbè ragazzi, ricordate di iscrivervi, di mettere... Di viaggio e di viaggio sulla nostra pagina Facebook Ciao Ok, dai, facciamo mouse No, facciamo mouse Cambiamo rispiega i tasti Vast per movimento Tasto sinistro del mouse per sparare Tasto sinistro del mouse per spegnere la torcia Non la spegnete mai R per ricaricare E per interagire e rubare Esatto Purtroppo se siete guardi non lo potete rubare, mi dispiace Io ci ho provato ma non ci sono riuscito Ripetevi, rifacciamo Però avete degli helmet belli Non so, non so, non so Non lo so Ah, però si dovevo mettere la cosa Ok, vai Andrea Preparati a prenderlo, cioè ad andare Ivan, mi raccomando, ha le parole in codice Della serie Ruba il tesoro? Della serie Non riesco a muovermi Ah, perché c'è l'ho Ho capito, ho capito, ho capito Ho un memoria della mappa, fottetemi Praticamente vi ho sgamato Tengo praticamente un visatto orbitale in testa Oddio Oh my god Oh my god Attenzione a quello tuo coltello che quello mi fa paura È già l'ho sgamato Bastardo L'ho ucciso 50 volte Ivan potente Inga paura Panico, panico Ah, proprio se volevo dire un'altra cosa Che praticamente le guardie possono accendere le luci Nel caso Andrea facesse meno lo stronzo e farsi rubare da sotto il naso il tesoro Eh, già hanno rubato Eh, Freud, sai l'inglese? Abbastanza E allora perché hai rubato qualcosa che non serve? E si è utile quanto la merda No, ma... Ivan, seguimi Eh, io so, a memoria dov'è, sto andando a pigliarmi Ma, ma... Dove cazzo siete? Ma io non lo so, io mi so fatto la mappa tre volte, eh Ma pure... Ragazzi, buoncino per me, eh Voi che mi state guardando, io buoncino per me Sono, ma... Lui registra da solo E' sociale Sia che non mi avrei presentato Tu ho messo di merda Ragazzi, mi sono preso Ragazzi, attenzione a quel tempo, eh C'è, no, il tempo del gioco Ecco, ne ho visto uno strozzo C***o, ero messo fra i due cespugli Neanche uno e mezzo Faccia me il petane Mi becco il cartello nel dretano Io ti insulto mentre registro Adesso ho capito, dicono, cosa dovevo prendere Eh, sei andato su Google, ecco perché non ti si fa spiegare No, 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 perché mi sembrava la stessa parola però non è Ah, invece... Ma allora voi state ancora allo spawn, cioè... Tanto per capire... No, no, no Ssssss, 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 ssss, 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 ssssss, ssssss, ssss... la nostra tecnica per me ora mi distrae l'altro te lo incula te lo inchiappetta si più o meno la piassa di la stagia sono sicuro che l'ho visto il peccato che non mi hai visto perchè sono già all'uscita ma hai preso ivan no guarda che io tada l'uscita vita e andiamo adeguati quali 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 almeno aveva il mio amore alberto vai a un ucciuto non so che ne ho due cazzo sono un piccolo e venite all'uscita b non so che ci uccidono non fare tanto per questo modo c'è andrea che se lo butto nel culo no no diciamo che loro giocano più nello stealth dai sono piccato che io la cammino frecce spugli quando non mi ci metto in mezzo ecco ne dobbiamo fare un'altra ma si ma dai registri ok uno di loro passa con me dai comunque eh beh beh sì mi piace mi piace st'idea oddio chi è Napoli 995? Andrea Mero so con T quello che non si chiama Savio quello che non muore mai ok quello che muore sempre esatto dai start Napolino oddio ok ehm dovresti capire anche me obbiettivo ruba aspetta che cazzo mi son messo vuoi dire che mi son messo il coltello non ci ho fatto nemmeno cosa se il coltello guarda un colpo è sciotti devi 70 HP con un colpo nei cento mmm grazie per l'informazione no c'è anche il doppio danno che mi sono dimenticato di levare eh visto te l'ho detto te l'ho detto vabbè non fa niente l'ho lamentato surprise surprise è vero è vero subito subito ti ammazzi madonna eccolo lì eccolo e uno è andato e anche quella merda anche io il coltello come lo trollo guardate ragazzi sta trollando il mio amico davvero sei fuori dal canale è ragione funziona troppo bene il coltello Andrea ha visto che sei uno stronzo eh quando l'ho detto io usiamo il coltello cosa 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 cazzo dici io ne ho preso uno poi non lo so che cazzo ho preso qua ma c'è anche scritto cosa ma dai cioè l'ultima parola l'ultima frase quello devi rubare che cazzo è è universale non puoi confonderti e non è il culo il culo ma muore dicero un altro c'era un altro stavo facendo c'è guarda guarda stare da dietro ora scordi ma Dio perché si è tutta la luce ma adesso non lo so sono morto basta sperare almeno sono morto ma finito mi scappolo aspetta mi scappolo interessante è che è una cosa naturale ragazzi damma che sono ste torci overpower vaffanculo overpower? sono con la dura ok ok ho visto la scena è stato epico ho visto quello nel corridoio addio me lo sono inchiampettato al dovere io cammino nella luce io cammino nella luce io cammino nella luce puramente caspata non mi ero rubato abbiamo perso no è stato un parigi perché abbiamo fatto una vittoria una vittoria a voi una vittoria a noi e poi abbiamo cambiato le squadre quindi abbiamo perso e vinto entrambi eccoci alla fine del video ragazzi come sempre ricordate di iscrivervi al nostro canale di fare anche un salto nel canale dei Far From Gamers dei bravi ragazzi a quanto pare salutiamo anche Roxas che nell'inizio me lo sono dimenticato ma vabbè ecchiale certo che dire non dimenticate di fare un salto sul nostro forum sulla nostra pagina facebook e sempre sui Far From Gamers vabbè detto questo ragazzi ricordo di iscrivere di mettere un mi piace se volete o non mi piace di commentare saluto tutti gli iscritti e un saluto particolare va al mio amico Luigi che me l'aveva chiesto tempo fa però mi dimenticai vabbè Andrea vuoi salutare qualcuno? sì io voglio salutare i ragazzi del canale di BorderTube e ricordarvi di iscrivervi al loro canale iscrivetevi anche al loro canale così almeno facciamo appunto questo scambio e vabbè non lo so dobbiamo un'ultima cosa da dire io a noi non mettete non mi piace solamente mi piace non mi piace non li voglio mi piace rapica mi piace un'altra cosa me la sono dimenticata questa è una cosa bellissima ah sì voglio salutare la mamma ciao mamma ciao mamma ciao mamma di Freud anche io ti voglio bene anche io voglio salutare la mamma di Roxas ciao 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 a tutti ciao ciao alla prossima ciao 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 perché stai urlando così zitti 3 2 dai sono peggio di noi Andrea madonna non è possibile 2 1 a proposito Andrea dobbiamo aprirci anche noi la pagina facebook la fai tu? se la fai tu certo che no bene aspettavo a mettere i tempi l'altro comunque che dite ne facciamo un altro perché io dovrei andare un attimo via quindi o mettete pausa so perché dobbiamo vedere il tempo a quanto stiamo perché non penso più di dieci minuti possiamo fare giusto Andrea? non è tanto buona quanti avete nel canale? quanti avete nel canale? 4-5 Andrea quanti? 5 5 e allora 15 minuti sicuro vabbè ma comunque c'è penso vada bene così abbiamo fatto vedere anche un po' di gioco a quanto stiamo scusa? eh io che cazzo ve l'ho detto lo deve aspetta 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 vabbè magari no siamo a 12 minuti no cioè facciamo 10 stoppiamo dai ok io sto a paura magari se si può cerchiamo di tagliare quel pezzettino dove dico porco no no ma non è bestemmiato ti ho sentito hai detto porco zio ti ho sentito 2 1 guarda preude gay lasciamola nei bloopers questa questa manca ma che cazzo fa no 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 Grazie per la visione!